Nonostante gli appelli nei mesi scorsi dei cittadini, sono peggiorate ancora le condizioni del ponticello della frazione di Tartago, unico punto di accesso al paese che con i suoi tetti di Ardesia è uno dei gioielli di architettura rurale al confine tra la Val Trebbia e la Val Boreca. I pochi residenti rimasti a custodire fedelmente il paesino, tanto da aver creato da tempo una gestione fai-da-te dei servizi, hanno ormai tutti più di 80 anni e in estate sono costretti a guardare letteralmente il torrente Boreca per poter tornare in questo scenografico nido d'aquila che tra le montagne tanto appassiona i fotografi. Transitare sul ponte, come segnalato dai cartelli, diventa ogni inverno più rischioso e con l'arrivo dell'autunno e il rischio di piene improvvise la situazione si complica. Il ponticello era stato realizzato con orgoglio dalle mani degli stessi abitanti di Tartago, più di 50 anni fa. Sono ancora i residenti a prendersene cura, cercando di mettere una pezza alla struttura, ma pezza su pezza il ponte, senza un intervento di riqualificazione complessivo, sembra ora poter crollare da un momento all'altro. Si dice che a fondare Tartago sia stato un gruppo di soldati di Annibale, lasciati indietro nella marcia attraverso l'Appennino perché rimasti feriti e quindi inabili al combattimento, forse in seguito alla battaglia della Trebbia. Ma oggi la battaglia dei residenti del piccolo paesino è quella di riuscire soprattutto a tornare almeno a casa.